Musica Bentrovati gentili telespettatori, un cordiale saluto da Honor News, il telegiornale delle marche di UTVRS. Apriamo con un paio di notizie relative ad incidenti stradali. Il primo a Chiaravalle dove un uomo di 85 anni era in sella la sua bici quando ha attraversato la strada in via San Bernardo ed è stato travolto da un'auto a pochi metri dalla sua abitazione. L'impatto è stato violento, tanto che l'anziano è praticamente morto sul colpo. Al volante della vettura c'era un 86enne che non ha visto il ciclista attraversare e lo ha centrato. Due sorelle di 85 e 90 anni sono state investite invece da un'auto condotta da una settantenne di Tolentino mentre attraversavano la strada in centro nei pressi di un passaggio pedonale che collega i giardini Lennon a Palazzo Europa. Entrambe le anziane hanno riportato diversi traumi alla testa, al bacino e dalle gambe e sono ricoverate in gravi condizioni. Per una di loro è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza per il trasporto a Torrette. La vettura nel frattempo è stata sequestrata. Ha confessato l'autore dell'incendio appiccato la scorsa settimana nell'Istituto Superiore Podesti Calzecchi Onesti di Ancona. È uno studente di 16 anni che frequenta quella scuola. Il ragazzo è andato a parlare con la preside parlando di una bravata, chiedendo scusa, non valutando le conseguenze di quello che poteva accadere. Ora si dovrà decidere che provvedimento adottare nei suoi confronti. Il più grave sarebbe l'espulsione. Il rogo era divampato martedì 29 ottobre al piano terra nel bagno dei disabili. A fuoco una sedia da ufficio. L'Istituto era stato evacuato. Ed anche nelle Marche ci sono stati disagi per le bufere di vento di ieri. Vigili del fuoco impegnatissimi, specialmente nel Piceno. Vediamo. Il forte vento, che ha spazzato una buona parte della penisola nella giornata di ieri, non ha risparmiato le Marche, ed in particolare Ascoli Piceno, con raffiche di forte intensità. In piena attività i Vigili del fuoco, nelle immagini, che hanno completato una trentina di interventi, la maggior parte per rimuovere parti pericolanti di cornicioni e piante che minacciavano la pubblica incolumità. Tra l'altro nel capoluogo interdetta per diverse ore al traffico la strada di Via Torricella per la rimozione di numerosi rami caduti sulla carreggiata. Disagi anche nel Maceratese, lungo la provinciale 78, anch'essa off-limits per i veicoli, in località Macchie di Ripa e San Ginesio. Ed il vento ha impedito ai pompieri di soccorrere in elicottero un cercatore di tartufi 67enne di Urbino, caduto in un dirupo in località Maciolla, ferendosi gravemente alla testa. È stato salvato con una barella speciale e con i soccorritori che hanno percorsi in mezzo al bosco e nella bufera quasi un chilometro. E proseguiamo con la cronaca blizza antidroga. Ieri dei carabinieri di San Benedetto del Tronto arrestate quattro persone, una donna del posto, una coppia di Martin Sicuro in Abruzzo e un pakistano residente nell'Anconetano. Tre sono finiti in carcere, la quarta persona ai domiciliari. Gli indagati sono ritenuti a vario titolo responsabili di detenzione illecita di stupefacenti in concorso. Secondo gli investigatori avevano messo in piedi una fiorente attività di spaccio in riviera con decine di clienti riforniti giornalmente che sono stati tutti segnalati come assuntori alle prefetture di Ascoli Piceno e di Teramo, sequestrati complessivamente quasi due etti di eroina. Tre pregiudicati sono stati denunciati per furto aggravato e danneggiamento, oltre che per violazione di domicilio in concorso. La notte di ogni santi si erano introdotti all'interno dello stabile ex Università di Fabriano con l'intento di smontare e trafugare una serie di grondaglie in rame. Sono stati notati però da un cittadino che ha immediatamente avvertito il 113. Agenti in borghese sono intervenuti bloccando i ladri. Durante un'operazione di controllo da parte della polizia di frontiera al porto di Ancona è stato individuato un afgano di 26 anni nascosto sotto al cassone di un camion all'interno di un traghetto proveniente dalla Grecia. Il giovane era debilitato ed aveva alcuni problemi fisici. Era stato sotto il tir per un giorno senza mangiare e senza bere. È stato subito trasportato all'ospedale di Torrette per accertamenti. Cambiamo argomento. Appello Ato e gestori all'Enel. Ripurire gli invasi, evitare crisi idriche alla luce dei cambiamenti climatici. Conferenza stampa oggi a Pesaro presso la sede di Marche Multiservizi. Manolita Scocco. Ad un anno dall'ultimo workshop dedicato agli acquedotti all'approvvigionamento idrico nella provincia di Pesaro Urbino, nel quale si ribadiva la necessità di attuare la pianificazione pluriennale degli investimenti per realizzare interventi strategici e strutturali in grado di mettere territorio a riparo da crisi e emergenze idriche sempre più frequenti, anche a seguito dei cambiamenti climatici, nella sede pesarese di Marche Multiservizi gli stessi soggetti, e cioè l'ente gestore, insieme ad Asset, assente giustificato il Presidente, l'Assemblea di Ambito Territoriale Ottimale numero 1, la provincia, hanno fatto il punto evidenziando tre linee di azioni principali. Mauro Tiviroli, amministratore delegato di Marche Multiservizi. Sicuramente la priorità zero, lo ribadisco, è quella della pulizia degli invasi lungo il Metauro, che ci consente di recuperare circa un milione e mezzo di metri cubi di idropotabile in più e quindi un polmone di circa 30 giorni di approvvigionamento. In più, il secondo atto è quello delle interconnessioni valive, quindi mettere in condizioni il tessuto idrico della provincia di comunicare e quindi ridistribuire l'acqua dove c'è più copiosa, dove c'è più scarsa, senza ricorrere a autobotti. Sulla pulizia immediata degli invasi, Furlo, San Lazzaro e Tavernelle, che deve fare l'Enel, il Presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, è categorico. Io credo che sia importante comunque che una persona venga incaricata a seguire quello che l'Enel avrebbe dovuto già fare o che comunque dovrà fare quant'è la fine del suo mandato. e questa persona avrà il compito di, chiamiamolo tra virgolette, tampinare l'Enel affinché queste pulizie degli invasi vengano fatte prima per permetterci di avere più riserva idrica negli invasi, un'acqua anche più pura, buona. E l'Enel è un compito che deve prima o poi assolvere, speriamo prima che poi, e per questo la persona sarà incaricata a citofonare tutte le mattine all'Enel. Quanto venite a pulire? Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà alla cerimonia per l'inaugurazione del 684esimo anno accademico dell'Università di Camerino, mercoledì 13 novembre alle 12.30 all'Auditorium Benedetto XII, Università Scrupolo e Utopia, il tema della cerimonia che sarà conclusa dal Premier. Previsti gli interventi del Rettore di Unicam Claudio Pettinari, di Nando Dallachiesa, professore ordinario di Sociologia della Criminalità Organizzata dell'Università di Milano e di Maurizio Franzini, professore ordinario di Politica Economica della Sapienza di Roma. Qualità dell'aria e delle acque al centro di un'indagine ARPAM. I risultati illustrati ieri in Regione. Sentiamo. Aria, mare, fiumi, laghi e acque sotterranee nelle marche dà la qualità che in generale migliora ed è eccellente per la balneazione. A confermarlo sono i dati sull'ambiente nelle relazioni pluriennali e sulla stagione balneare 2019 pubblicati dall'ARPAM e presentati in presenza dell'assessore all'ambiente Angelo Sciapichetti. Siccome da troppo tempo girano dei dati che danno un'immagine diversa della Regione, noi possiamo dire in base ai dati che l'ARPAM oggi ha fornito e che sono a disposizione di tutti coloro che vogliono leggerli e controllarli che la Regione Marche si trova in una situazione buona che ovviamente va migliorata sia per quanto riguarda la qualità dell'aria, la qualità delle acque, la qualità dei fiumi, però dobbiamo dire che le politiche che abbiamo messo in campo in questi ultimi anni ci hanno aiutato a fare dei passi in avanti. Dobbiamo continuare con questa politica virtuosa quando penso alle politiche e penso anche a leggi regionali che abbiamo fatto in questa ultima legislatura. Penso per esempio all'uso delle plastiche monouso, siamo stati i primi in Italia come regione a recepire una direttiva europea, penso alla battaglia che abbiamo fatto contro l'ingegneritore, penso a una serie di questioni che abbiamo messo in campo e che stanno dando i risultati positivi. Ovviamente sono risultati lenti che dobbiamo monitorare periodicamente, ma c'è un trend positivo di crescita e questo ci riempie enormemente di soddisfazione perché significa che siamo andati nella direzione giusta, facendo una politica ambientale non squillante, non sbandierata, ma seriamente cercando di portare avanti nel merito e risolvere nel merito le questioni più aperte, più difficili che noi avevamo. E apriamo ora la pagina sportiva con il calcio e i provvedimenti del giudice sportivo in Serie C dove una giornata di squalifica è stata inflitta a Mirko Miceli della San Benedettese Lorenzo Paoli della Vispesaro. Intanto in Serie B Nicola Ninkovic è tornato in Serbia, il trequartista dell'Ascoli dopo il siparietto davvero poco edificante sabato scorso contro il Venezia, non prenderà quindi sicuramente parte alla trasferta dei bianconeri. Venerdì a Crotone tornerà a disposizione del tecnico Paolo Zanetti lunedì 11 novembre. Ora a break con il ciclocross in pieno svolgimento, l'attività nelle marche non solo, il servizio con la collaborazione di Umberto Martinelli. È intensa, 96 ore pratistica per i corridori marchigiani. La serrata cronaca della quattro giorni fuoristrada pedale dal passo podistico in termini e modi stagionalmente inediti sotto i fari e la pioggia nel fango e sulla sabbia. Apre nelle immagini la notturna di Corridonia, chiude la quinta tappa del Giro d'Italia ciclocross nel friulano Parco del Rivellino per l'organizzazione del Jams Bike Team Buia. Gli ori corridoniani della Fertesino Cup vanno ai master Pierluigi Quadrini, Bikers Rock'n'Road Pollenze e Alberto Laloni, abitacolo Sport Club Rapaniano. L'adriatico cross tour pianta le tende ad Ascoli. Salgono ai vertici lo junior Lorenzo Sorgi, l'ander laziale Edoardo Crocesi del Cycling Cafè, l'allievo Andrea Sicuro in forza alla società ciclistica Nibali, seguito dal gagliolese Teodoro Torresi, il giovanissimo pescarese Filippo Cerasi, amici Bici Junior, Adamo Re, Super Gentleman Racing Team, e ancora intramontabile esempio vincente. A Sassoferrate il master ciclocross Wispino dispensa gli ori al tricolore, Elite Sport Lorenzo Cionna, Team Cingolani ed al tandem Luca Michettoni e Marco Gorietti, arrivo mano nella mano. Doppio impegno per il Giro d'Italia ciclocross, a IE solo quarti posti per Rebecca Gariboldi, Team Cingolani Donne Open e Giulia Rinaldoni, Bici Adventure Piangerelli Quintabà Donne Sordienti, argento per l'allieva Eleonora Ciabocco, Team di Federico Pink. La già rossa tricolore, vanto della Federiciclismo maceratese, sfiora la vittoria anche a Osoppo, conquistando il bronzo. L'anello Udinese rende merito ad Ezio Camelli, Beach Adventure Piangerelli Quinta Bagagliole, che si conferma miglior girino Master 3. Premono gli appuntamenti, domenica 10 novembre Master a Monturano, domenica 17 novembre Adriatico, Cross Tour a Pianello di Ostra, Fertesino K Rubianello, approfondimenti in giove di ciclismo, TVRS canale 11 alle 22.30, venerdì sulle strade, TVRS Marche canale 111 alle 20.15. Ancora calcio, volto nuovo all'allenamento della Fermana, si è aggregato in prova il gruppo lo svincolato Nicola Lancini, terzino sinistro, classe 94, reduce dalla stagione alla Virtus Vecum Verona. Lancini, origini bergamasche, è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha raccolto anche delle presenze in Serie B. domani, lo ricordiamo per i canarini, match di Coppa Italia a Terni. E diamo ora un'occhiata alle previsioni meteo per mercoledì 6 novembre. L'Italia è interessata da un'insidiosa perturbazione atlantica, che condiziona il tempo su quasi tutte le nostre regioni. Spostiamoci ora al centro, anche qui il tempo risulta spiccatamente instabile, specie sulle regioni tirreniche, sulle Marche e sulla Sardegna settentrionale. Qualche temporale sul Lazio. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 7 gradi e non supereranno i 18 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 16 gradi al nord, fino a 19 al centro e punte di 25 gradi sulle regioni meridionali. Bene, per ora abbiamo terminato. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli, visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it, dove la il fa la differenza. Arrivederci! Un'ultima notizia domani dalle ore 18.30 all'ippodromo San Paolo di Monte Giorgio, serata di gala con tanta adrenalina per l'abbinamento dei cavalli ai 27 comuni partecipanti alla 31esima edizione del Palio dei Comuni, che si disputerà domenica 10 novembre sulla pista dell'ippodromo Marchigiano. La magica festa del Palio inizierà le 12.30 di domenica, appunto per finire in tarda serata un lungo pomeriggio di sport e spettacolo ad altissimo livello, visto che si tratterà di una corsa di gruppo 1. Con questo è tutto per il nostro telegiornale. Grazie per la cortesa attenzione ed appuntamento a domani. Grazie per la visione!